Sono scesi di nuovo in piazza i genitori del comitato di protesta Buoni Pasto, per dire no, al prezzo troppo alto del servizio mensa. Questa volta al loro fianco anche i bambini, che armati di trombette e fischietti, si sono fatti sentire colorando le strade della città, come preannunciava il nome della manifestazione, Panino in Festa. E la festa è partita dalla discesa adiacente Porta San Pietro per arrivare in piazza Napoleone, dove i genitori hanno improvvisato un vero e proprio picnic tra gli occhi incuriositi dei passanti, che si chiedevano quale fosse il motivo di questa allegra mobilitazione, che sembra solo l'inizio di una nuova, forse più partecipata, serie di azioni. Le azioni che stiamo portando avanti vanno su due fronti, che sono quello del proseguire la protesta del Panino Day, da una parte, dall'altra stiamo valutando insieme ai genitori la possibilità di ricorrere al Tario, al Presidente della Repubblica, per quanto riguarda le ordinanze che hanno portato agli aumenti tariffari, all'adozione soprattutto di indici di benessere, che riteniamo essere piuttosto degli indici di malessere. Seduti in piazza al fianco dei genitori, i bambini hanno giocato e fatto merenda con un panino, ormai simbolo della protesta, additato dal Presidente Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri Giuseppe Mele, che consultato dall'assessorato dell'istruzione del Comune di Lucca, lo ha definito un pasto diseducativo e lesivo. I genitori rispondono così. Più che parlare di panino, direi al pediatra intervenga presso l'amministrazione comunale per valutare quella che è la dieta che viene utilizzata, somministrata ai nostri figli, quelle che sono le tabelle nutrizionali, per capire se quello va bene. Noi il panino lo usiamo unicamente come strumento di protesta, allungi da noi l'idea di andare avanti a panini. Allungi da noi l'idea di andare avanti a panino,